Salve a tutti e bentornati su Crystal Lake TV per la prima volta dopo cinque anni dalla creazione del canale oggi andremo in esterna stiamo andando a visitare il parco ittico paradiso di Villa Pompeiana Zero Bon Persico visto che è relativamente vicino a casa mia i miei figli hanno deciso di portarmi in bici è una bellissima giornata di giugno ci sono 47 gradi all'ombra ma di ombra non ce n'è sulla maglietta con il logo del canale che sembra fatta dello stesso materiale con il quale fanno il telo pacciamante per l'orto se tutto va bene dovrei arrivare vivo ci vediamo dopo la sigla al parco ittico paradiso Villa Pompeiana Zero Bon Persico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti